Anglomà, buono il controllo a seguire, pallone in aria, l'altezza, il dischetto del rigore! Ed è un brivido incredibile questo, Beril Parma ha provato Sforza, e il pallone è uscito di un nulla, guardate l'abbraccio di Bravaux a Buffon, rivediamo, aggancia Branca, si gira, Sforza ed è un miracolo vero, quello di Buffon che riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo, che brivido finale, non è finito! Grazie Gioffone, ha avuto il partito da questa parte! Francesco, Francesco interviene Nicicofone a salvo della giua! Al Bicadra ha avuto il passaggio di Servon, con il avidade che è laissata da l'arbitre, La corso di radio, avventura il tiro sulla barra e Gigi Buffon che si mettona, l'italiano sovra il PSG e il posto di portare l'occasione con l'Egimenta, con un po' di pochettia. Ovviamente è un grande, grande portiere. Vediamo il doppio intervento strepitoso di Buffon, bravissimo, anche Fortunato comunque la partita del pallone, guardate come danza il pallone nei pressi della linea bianca ma non nero. Ancora Buffon, miracolo, e poi palla sull'esterno della rete, parata strepitosa di Buffon e i giocatori del Paraguay chiedono però il gol perché al loro modo di vedere Buffon avrebbe parato al di là della linea, rivediamo. Vedete la deviazione ravvicinata da parte del giocatore Brizuela e la parata strepitosa con un riflesso incredibile da parte di Buffon, vicinissimo dire se il pallone fosse entrato o meno, comunque autentica prudezza da parte di Buffon, da due passi di Brizuela e un riflesso strepitoso di Buffon. Secondo il gol di Buffon non ha capito, altrucione, Bigliet, Brizuela e sinistro, Buffon, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0. In piedi del loro giocatore della nuova, Buffon sta incontro. La prima è 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 la seconda di una difficoltà estrema. Cavani non riesce a passare il pallone, poi sull'esterno, Buffon! E noi abbiamo Buffon! Abbiamo Buffon! Ancora!